Musica Ciao ragazzi sono Lori e ben ritrovati nella top 5 di questo week Ovvero la top 5 composta dalle prossime clip che ci inviate tutte le settimane che stai vedendo Questa top 5 è legittimamente sponsorizzata da Tabacitaia Link è in fondo in descrizione Adesso ragazzi dovete subito partire con la quinta posizione che ce la porta Troezio Che si trova su Black Ops 2 Nuketown con un ballista nelle sue mani Prende il primo nemico dopo il quale si entra dentro questa casetta che si affaccia davanti a questo spawn che è utilizzatissimo Missa il primo nemico prende un collateral dopo il quale ne prenderà un altro Si mette a ricaricare purtroppo due nemici nella feed scompaiono E dopo i quali prenderà altre due kill con un piccolo split in mezzo Lo sappiamo non è una bellissima clip però noi come al solito mettiamo le clip che ci arrivano Alla quarta troviamo Raxic che si trova sempre su Black Ops 2 Questa volta su standoff e si lancia dalla finestra di green per tirare questo tomoc in un modo abbastanza strano Come avete potuto vedere e guardate qua dove va a uccidere questo nemico per concludere la sua partita di tutti i consulti Veramente sculatissimo secondo noi meritava tutta la quarta posizione Alla terza invece troviamo Raxic che ringraziamo per averci inviato un'altra delle sue clip Si trova sul raid con un DSR inizia a correre per arrivare per primo all'uscita dei zig zag per ovviamente Hittare la clip che di solito si trova all'uscita di questa zig zag appunto all'inizio della partita E prende una triple one bullet dopo il quale prenderà un altro nemico e farà questa quad feed abbastanza carolina La seconda posizione ci troviamo Frost Max che si trova sempre su Black Ops 2 Questa volta su Nuketown con un ballista prende un headshot un collateral headshot Dopo il quale farà questa quad feed dopo il quale farà questa five man on screen con un altro headshot Quindi una five on con una quad headshot Alla prima posizione ci troviamo Naves Sosks non riesco a pronunciare il suo nome Che si trova su Black Ops 2 carrier si butta giù dalla mappa e fa questo trickshot veramente molto bello Per concludere questo round di cerchi e distruggi Ragazzi lo so le clip di questa settimana non erano delle migliori ma purtroppo non ce ne sono arrivati tantissimi Infatti un paio delle clip le ho prese dall'archivio, dall'email insomma di veramente tantissimo tempo Fa quindi invito a tutti a inviarci altre clip per riuscire a farci venire fuori delle top migliori Comunque ragazzi la top quest finita Io spero come al solito che vi sia piaciuta Se è così interassionale mi piace commentate, iscrivetevi se volete passare la pagina a Facebook Vi invito come al solito a scrivermi nei commenti se secondo voi le posizioni erano adatte o meno E ovviamente di farlo pacificamente E niente ragazzi ho finito, ciao a tutti Non ti piacciono i GTF Ti ammazzati Ti gasparati Quando arrivo devi farmi passare